Gianluca Galassi, centrale di una Sirsef di Conad Perugia che ha nel DNA qualcosa di importante. Arrivi in questa squadra con quanti stimoli? Tanti, tanti perché ha un DNA importante veramente. L'anno scorso l'ha fatto vedere e l'ha dimostrata tutta Italia, cosa che prima c'era riuscita ma non con titoli, diciamo. E quindi nulla, sono molto orgoglioso, sono molto felice di essere arrivato qua. E' tutto da giocare. Sei uno dei prospetti più interessanti del panorama giovane italiano. Hai avuto tante proposte quest'estate. Arrivare in una squadra ma sapere di non avere il posto assicurato, che effetto fa? Secondo me è una cosa bella perché comunque avere il posto da titolare, magari si siede sugli allori, non si sa mai. Invece così devi sempre spingere al massimo per ritagliarti un posto in campo e credo che sia la cosa migliore in un posto come questo, su questo tricolore e con tutti i tifosi che ci sono a Perugia. Che cosa hai conosciuto di Perugia? Cosa conosci e che cosa ti ha spinto soprattutto a venire qui? Beh, solo il fatto che qua si giochi per vincere, le finali per vincere titoli, è già una cosa che vogliono fare tutti e è una cosa che mi ha spinto intanto a venire qua. Poi il fatto di giocare con dei fenomeni di tutto il mondo, da Tanasievic a Leon a Podras, Canina a Dececo, e quindi allenarmi con questi campioni, giocare con questi campioni, può solo che farmi bene.